Ciao a tutti, sono Anka Wianske e continuiamo a condividere le principali notizie del progetto in un comodo formato video. Vorremmo iniziare questa puntata con un importante evento in febbraio. Alla fine del mese la compagnia IGU ha ricevuto il codice internazionale di identificazione dei titoli Aisin. Aisin è composto di 12 cifre e si presenta così. Ora i titoli di IGU sono completamente conformi agli standard giuridici internazionali. Che cosa dà questo all'azienda e ai suoi partner? La sanità del codice Aisin renderà l'ecosistema di IGU più attraente per i fondi stranieri, aumenterà la fiducia nell'azienda e amplierà le opportunità di collaborazione. Alla cosa principale, la sanità di Aisin aumenta la fidabilità, la qualità e la trasparenza delle transazioni finanziarie e anche la fiducia nell'azienda da parte delle autorità finanziarie. Una conseguenza logica dell'ottenimento di un numero di registrazione e uno scambio di quote di IGU con i titoli. Per questo ogni partner dovrà sottoporsi alla procedura KYC. Il processo di verifica KYC in IGU sarà realizzato gradualmente, tenendo conto di tutte le peculiarità legali di ogni paese. Come e quando? Lo diremo nei nostri canali ufficiali. Nel frattempo andiamo avanti. Il progetto IGU continua a conquistare il mondo. A febbraio è stata tenuta la prima conferenza in India. C'erano più di 100 partecipanti. Grazie alla conferenza molti nuovi partner si sono già uniti al progetto e l'interesse per IGU in India continua a crescere. In generale, lo svolgimento delle conferenze internazionali è un ottimo strumento per promuovere il progetto nel vostro paese. Se volete organizzare un evento simile, scriveteci a leaders.dgu.ai. La compagnia fornisce supporto di informazione e quello materiale per svolgere questi eventi. Passiamo alle notizie tecniche. La squadra del laboratorio blockchain Digiolab è stata tra i finalisti dell'internazionale Hackathon S Global. Al Hackathon hanno partecipato 120 squadre e solo 32 di loro hanno vinto dei premi, tra cui Digiolab. La squadra Digiolab ha vinto un premio speciale del progetto Chainlink e ha ricevuto un'offerta di collaborazione con un progetto blockchain che è uno dei primi 10 al mondo. Al Hackathon la squadra Digiolab ha presentato un caso per creare il proprio scambio cross-chain. Utilizzando la tecnologia Chainlink, scambio criptovalute tra le blockchain Ethereum e Binance Smart Chain. Gli esperti di Chainlink si sono interessati al prodotto e hanno notato l'approccio non standard della nostra squadra nell'applicazione delle tecnologie di oracoli di Chainlink. Adesso vi spiego. Un oracolo è un agente che trasmette dati dal mondo esterno alla blockchain. Nel nostro caso l'oracolo trasmette i comandi tra due blockchain, Ethereum e Binance Smart Chain. A proposito, il prodotto può completare l'ecosistema Digiolab in futuro, ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Non possiamo ignorare il nostro prodotto DigiWealth. A febbraio è stato un buon mese per tutti gli investitori di questo prodotto. Abbiamo superato le nostre aspettative di profitto. Il rendimento totale di DigiWealth a febbraio è stato del 7,2% in USDT, 3% in Ethereum e 3,5% in Bitcoin. Inoltre, secondo le numerose richieste degli investitori, abbiamo implementato un meccanismo grazie al quale è possibile convertire le criptovalute Bitcoin o Ethereum in USDT all'interno del back office di DigiWealth. Per farlo è necessario presentare una richiesta dal giorno 2 al giorno 5 di ogni mese. E concludiamo la puntata con una piacevole notizia per tutti i partner. Fino al 31 marzo è possibile ottenere gratis le quote DigiU. Nella sezione quote in omaggio DigiU, nell'area riservata, è già apparso un nuovo compito. Per ottenere le nuove quote in omaggio DigiU bisogna solamente invitare due nuovi partner al progetto. I partner devono registrarsi in back office DigiU e passare alla verifica. Se completate questo compito, riceverete 200 quote in omaggio DigiU e si può farlo entro il 31 marzo. E già il primo aprile sarà un altro aumento del prezzo delle quote DigiU fino a 9 centesimi, ma se acquistate qualsiasi pacchetto di quote entro la fine di marzo, fisserete il prezzo al marchio attuale. Amici, questa è solo una piccola parte delle nostre notizie. Potete trovare la lista completa dei successi sulla pagina ufficiale DigiU sulla piattaforma Medium. E naturalmente non dimenticate di mettere mi piace, lasciare commenti, condividere con i partner e iscriversi al canale. A presto!